Hai qualche altra domanda o peccato che vorresti confessare a Gesù? Maria? C'è ancora una cosa, però non sono sicura che sia un peccato. Ti ascolto. Ho immaginato di diventare una santa, spinta dal grande amore per Dio, di offrire la mia vita in sacrificio a Lui e che Lui l'accettasse. Che Dio mi scegliesse dicendo, il tuo amore è più forte e più puro di quello degli altri. Ti prendo per portarti con me in paradiso. Poi sarei morta e mi avrebbero seppellito e la mia anima sarebbe volata fuori dalla tomba, sempre più in alto, dritta fino al cielo. E Dio era lì, che aspettava me. Sarei rimasta sempre con Lui. Sarei rimasta per fare loro. Nieli! Grazie a tutti.